Il consorzio Coreertex chiede campagne di comunicazione sul corretto conferimento di abiti usati per aumentarne il riciclo. La Tricobiotos di Vaiano cede il 90% delle quote ad una grossa azienda italiana del settore. I giardini di Narnali e Via Capponi alla Pietà si rifanno il look, conclusi i lavori costati 95 mila euro. Tre pratesi vincono il campionato italiano di football americano con i Guelfi di Firenze. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di TV Prato. In primo piano l'economia con l'appello di Coreertex puntare su campagne di comunicazione per far conoscere le corrette modalità di conferimento degli indumenti usati che ad oggi solo per il 15% sono avviati a riuso e riciclo. È quanto appunto chiede Coreertex, il consorzio degli operatori del settore che recentemente ha visto l'ingresso di sei nuove aziende consorziate. Una ricerca interna al consorzio per verificare le abitudini dei pratesi nello smaltimento degli abiti usati. È quanto portato avanti dal Coreertex, il consorzio per il riuso e riciclo tessile che dopo i numeri negativi dell'indagine congiunta di alia, regione e ambiti territoriali che ha fatto emergere come solo il 15% degli indumenti usati, vada al riciclo, ha deciso di verificare sul campo quanto accade nel settore. Una ricerca arrivata anche sulla spinta dei nuovi ingressi nel consorzio che ha sei nuovi consorziati, Rantex, Future Evolution, Polo Spedizioni, LMPT, Newcomindusa e Mitumbatex. In particolare queste ultime due aziende ci hanno aperto le porte dell'impresa per vedere da vicino le lavorazioni del settore. Abbiamo fatto una nostra piccola indagine, abbiamo scoperto che effettivamente la cittadinanza non ha proprio le idee chiare. Qualcuno dice sì, abbiamo sentito che c'è la differenziata sui tessili, però non è ancora operativa, quindi non sappiamo dove buttarla, prendiamo sacchi grisci e la mettiamo in differenziata. Oppure no, non ci sono leggi che regolamentano questa cosa, quindi noi sappiamo che dobbiamo buttarla in differenziata. Ecco, questo è assolutamente un errore, secondo noi un danno. Alla luce di questi dati e dopo i colloqui con il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai e i contatti costanti con Alia, dal Corertex arriva così l'invito a organizzare campagne congiunte di informazione rivolti ai cittadini, sempre più attenti e sensibili alla materia ambientale. È essenziale fare una campagna informativa per quanto riguarda la raccolta differenziale sui tessili, il corretto conferimento, perché se no tutto ciò che abbiamo visto finora, questa scernita, questa passione di questo lavoro sarà impossibile se manca il corretto conferimento, quindi abbiamo anche un po' consigliato eventualmente un progetto pilota o qualcosa del genere. Il nostro prossimo impegno sarà sicuramente anche quello di andare a parlare con il sindaco di Prato, Bilfoni, perché giustamente è il capoluogo di provincia e guardare di andare insieme in questa battaglia. Cronaca controlli straordinari dei carabinieri di Vernio. Lo scorso fine settimana al Parco dell'Albereta i militari hanno identificato decine di persone e denunciato un 14enne di Castiglion de Pepoli trovato in possesso di due dosi di hashish. Il giovane è ritenuto coinvolto in attività di spaccio. Nella sua abitazione i militari hanno trovato una bilancina di precisione. Altri due ragazzi di Vernio di 16 e 18 anni sono stati trovati in possesso di piccoli quantitativi di droga per uso personale. I controlli sono scattati dopo le segnalazioni di molti abitanti di Vernio che da qualche tempo avevano notato movimenti sospetti nel Parco dell'Albereta e la presenza di giovani che si erano segnalati per comportamenti sopra le righe. I controlli in zona proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nei fine settimana. Economia ancora con la Trecobiotos di Vaiano che è stata ceduta ad Alfa Parf Milano. Il 90% delle quote dell'azienda, che conta 120 dipendenti, passano al grosso gruppo italiano che opera nello stesso settore. La cessione, assicurano dall'azienda, non avrà ripercussione sul personale e sulla produzione che resterà a Vaiano. La maggioranza di Trecobiotos, azienda nata a Vaiano 40 anni fa, specializzata nei prodotti professionali per capelli, che conta 120 dipendenti e vende in oltre 60 paesi esteri, passa ad Alfa Parf Group SPA, la capogruppo di Alfa Parf Milano, multinazionale italiana della cosmetica professionale. È stato infatti perfezionato il contratto di cessione del 90% delle quote della società fondata dalla famiglia Bucaioni, che a seguito dell'operazione conserva adesso una partecipazione di minoranza del 10% attraverso Mama Holding. La cessione, assicurano dall'azienda, non avrà ripercussioni sul personale e sulla produzione che resterà a Vaiano. Per i prossimi tre anni Marco Bucaioni continuerà a guidare Trecobiotos, ricoprendo i ruoli di presidente e amministratore delegato. Attilio Brambilla, vicepresidente di Alfa Parf Group SPA, sarà anche vicepresidente di Trecobiotos SPA. Giovanni Aviotti sarà consigliere delegato. Trecobiotos, vincitrice dello Stefanino d'Oro nel 2015, aveva già aperto il proprio capitale al mercato, cedendo nel 2017 il 72% delle quote ad Alto Capital 4, fondo di private equity gestito da Alto Partners SGR. Sotto questa nuova compagine societaria, Trecobiotos ha continuato a crescere, passando da 70 a 120 dipendenti e conseguendo bilanci positivi, con ricavi per 25,7 milioni di euro registrati nel 2021. L'operazione di cessione del 90% delle quote ad un altro primario operatore del settore, che a ricavi 10 volte superiori, si propone di consolidare l'azienda nel posizionamento a livello internazionale. Con la firma dell'atto costitutivo venerdì scorso è nata ufficialmente Montemurlo Green, la prima comunità energetica rinnovabile della provincia e una delle poche esistenti a livello italiano. Per presentare alla cittadinanza e alle imprese del distretto la comunità energetica Montemurlo Green, il sindaco Simone Calamai ha convocato per oggi pomeriggio alle ore 18 al teatro della Salabanti un primo incontro per ricercare adesioni e per illustrare nel dettaglio il progetto che si propone di far ottenere sconti in bolletta fino al 40% per famiglie e imprese produttrici e consumatrici di energia generata da pannelli fotovoltaici. Torniamo adesso a Prato per parlare della riqualificazione delle aree verdi a Narnali e in via Capponi alla Pietà dove il Comune ha investito circa 95 mila euro. I lavori sono conclusi e possiamo apprezzare gli interventi. Sono terminati i lavori di riqualificazione che hanno riguardato due aree verdi di Prato, quella a Narnali in via Armada a Angolovie del Carzo e quella dei giardini pubblici ex Magnolfi di via Capponi. I lavori sono stati fatti per migliorare la fruizione degli spazi e garantire nuovi luoghi per l'attività all'aperto in quanto inseriti in zone densamente abitate che si prestano allo svago e alle attività ludiche. Sta proseguendo l'attività che l'amministrazione sta portando avanti andando ad ogni anno come un buon padre di famiglia con le risorse a disposizione andiamo a riqualificare 4-5 spazi della città oltre agli interventi quelli più importanti nei quali abbiamo avuto dei finanziamenti a livello europeo, però con le risorse dell'amministrazione al di là dell'attività di manutenzione ordinaria noi ogni anno abbiamo l'obiettivo di arrivare a fine mandato con gli spazi aperti al pubblico effettivamente riqualificati, fruibili e messi in sicurezza. A Narnali è stata riqualificata l'area all'interno della quale gli arredi e le infrastrutture dello spazio attrezzato con giochi per l'infanzia erano ormai usurati. I lavori hanno interessato anche la piantumazione di nuovi alberi e la risistemazione della siepe in alcuni tratti. L'intera operazione è costata all'amministrazione comunale circa 57 mila euro. C'è stato un intervento di restyling e di sostituzione comunque di attrezzature ludiche presenti in questo giardino, è stata cambiata ubicazione perché c'erano dei giochi che erano sotto dei pini quindi con la pavimentazione in gomma danneggiata. Abbiamo sostituito le tipologie di gioco e poi abbiamo ristrutturato il gioco esistente che si chiama complesso Indian Due Torri con il rifacimento completo di tutte le pavimentazioni in gomma colata. Poi l'intervento ha riguardato comunque l'asfaltatura anche dei vialetti, il ripristino della fontanina e la sostituzione poi di tutte le stecche e le panchine per dare un intervento completo. I giardini pubblici ex magnolfi di via Cappone invece hanno avuto interventi di portata minore ovvero una nuova pavimentazione e la ristrutturazione delle attrezzature da gioco per un costo complessivo di circa 37 mila euro. In vista del voto per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre a partire dallo scorso primo agosto sul sito web del Comune di Prato tutti coloro che si sono iscritti all'albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio entro il 2021 possono dare la loro disponibilità alla nomina fino alle ore 13 di sabato 24 settembre. Gli scrutatori disoccupati iscritti all'albo entro il 2021 hanno la precedenza nella nomina ma hanno tempo fino alle 13 di venerdì 19 agosto per dare la disponibilità online presentando anche la dichiarazione di disoccupazione. E adesso lo sport per far conoscere tre atleti pratesi che si sono laureati campioni d'Italia nel football americano con la squadra dei Guelfi di Firenze. Li abbiamo intervistati. Ci sono tre pratesi campioni d'Italia di football americano. Damiano Vitti e Riccardo e Andrea Giacchin hanno vinto l'Italian Ball con i Guelfi Firenze superando nella finalissima a Scudetto giocata allo stadio dall'Ara di Bologna i Seamens di Milano. Abbiamo scelto i Guelfi perché a Prato non ci sono squadre. Poi questo sport ci ha portato da quando eravamo 15-16 anni abbiamo deciso di fare questo sport. e il football l'unica squadra che c'è qui in Italia o qui in Toscana è a Firenze. Quindi per quello. Una vera e propria impresa quella dei Guelfi Firenze che hanno rovesciato il pronostico superando i favoriti milanesi della Seamens. Finalmente sono anni che si prova ad arrivare in finale. Tre anni fa si arrivò in finale ma si è persa all'ultimo. quest'anno ci siamo detti all'inizio d'anno che l'unico obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Siamo tutti contenti ma si pensa già all'anno prossimo e a rivincere l'anno prossimo. Quindi non è finita ma è solo l'inizio di una grande avventura per i Guelfi. C'è anche un po' di Prato nella vittoria tricolore dei Guelfi Firenze nel campionato di football americano. Finalmente siamo riusciti a portare a termine un sogno che speravamo di riuscire a farlo. e diciamo che abbiamo scritto la storia dei Guelfi nel football americano. Siamo davvero contenti perché anche con il ritorno di The Coach Brails che grazie a lui siamo davvero riusciti a portare avanti un obiettivo prefissato già da inizio campionato. Insomma, Prato sa anche giocare a football americano. E' il caso di dirlo. Oh yes! E vediamo adesso le previsioni meteo come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine satellitare ci mostra un'area di alta pressione che continua a garantire condizioni di stabilità su gran parte d'Europa che purtroppo costringe le perturbazioni cariche di piogge a scorrere all'attitudine ben più settentrionale. Andiamo quindi a vedere le condizioni meteo attese in Toscana. Nel pomeriggio sera di oggi cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento nelle zone interne ma con basso o nullo rischio di precipitazioni, venti deboli occidentali a tratti di maestrale sulla costa, mari poco mossi, temperature purtroppo in ulteriore aumento con punte di 37-38 gradi nelle zone interne di pianura. Per quanto riguarda la giornata di domani cambierà ben poco, alta pressione in ulteriore consolidamento, cielo sereno in mattinata, minime tra i 19 e i 24 gradi. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme sui rilievi ma senza precipitazioni, venti occidentali a tratti di maestrale sulla costa, mari poco mossi, temperature massime oscillanti fra i 30-32 gradi della costa e i 36-39 gradi delle zone interne. Bene, con questo concluso, buona giornata a tutti. Si conclude anche il nostro telegiornale, l'edizione del giorno, l'appuntamento è rimandato a questa sera, come sempre, alle 20.30 con il Tg Serale. Grazie dell'attenzione, buon pomeriggio. Grazie a tutti.